Ad una settimana dal terribile terremoto che ha colpito il centro Italia, arriva un nuovo appello ai pugliesi a non improvvisare centri di raccolta di aiuti umanitari in favore delle popolazioni colpite dal sisma. A lanciarlo è il presidente del Comitato Permanente della Protezione Civile Pugliese, Ruggero Mennea. In questo momento, avverte Mennea, sono più utili donazioni in denaro al numero 45500 della Protezione Civile. Solo dopo la conferenza Stato-Regioni di domani sarà possibile iniziare le raccolte perché in quella sede saranno stabilite le modalità. Mennea è stato delegato dal governatore Michele Emiliano a rappresentarlo alla conferenza con all'ordine del giorno le modalità per il coordinamento del flusso di aiuti delle regioni e delle province autonome per la gestione dell'emergenza. Ai lavori parteciperà anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. La macchina degli aiuti si è messa in moto da tempo anche in Puglia, ma al momento la Protezione Civile regionale legittima solo i centri di raccolta comunali già avviati da alcuni sindaci allo scopo di impedire che i beni prendano altre strade. Finché non ci saranno indicazioni certe da parte della Protezione Civile, continua Mennea, è bene prepararsi alla raccolta ma non effettuarla. L'emergenza purtroppo durerà nel tempo e ci sarà bisogno di strutturare gli aiuti in modo da fornire un supporto reale alle popolazioni colpite. Grazie.